Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Quando arriverà Mercedes Schenger in Honduras per partecipare o l'isola dei famosi? E come sta sua madre Eva dopo il brutto incidente avvenuto in Ungheria? Mercedes Schenger è una delle future naufraghe dell'isola dei famosi di Hilary Blasi, la figlia di Eva Enger, però, ha appreso dell'incidente stradale di sua madre e al momento non è ancora sbarcata in Honduras. Quando arriverà nel reality? Come sta l'attrice Ard dopo il sinistro? Leggi anche, Isola dei famosi, Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, è gay? Non voglio donne, ecco la verità quando arriva Mercedes Schenger all'isola dei famosi? L'arrivo in Honduras di Mercedes Schenger è ancora indefinito, la naufraga potrebbe arrivare stasera, ma niente è ancora certo. L'incidente stradale che ha coinvolto Eva Enger e suo marito Massimiliano Caroletti ha preoccupato moltissimo la bionda influencer, che è stata ovviamente avvisata nonostante si trovi lontana da casa per l'isola dei famosi. Roberto Alessi il direttore di Novella 2000 nell'ultima puntata di Pomeriggio 5 ha specificato di aver avuto una lunga conversazione telefonica con Mercedes Schenger e di aver avuto anche delucidazioni sullo stato di salute di mamma Eva e il patrigno Massimiliano, ecco le sue parole, come sta Eva Enger dopo l'incidente? Massimiliano Caroletti ed Eva Enger non sono in pericolo di vita, dopo l'incidente avvenuto in Ungheria, i due sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma sembra stiano bene. Fondamentale è stato l'utilizzo delle cinture di sicurezza, che ne hanno determinato il salvataggio. La coppia si stava recando a prendere un cucciolo da regalare alla loro figlia Jennifer, che, per fortuna, non si trovava in auto con loro. Seguici su Instagram cliccando qui. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!